Una competizione di idee che mira ad incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela. Si tratta dell'evento Nice2PCU previsto per sabato 30 aprile prossimo nella prestigiosa sede di Palazzo Mattina, in corso Vittorio Emanuele 411. Finora, dalla data di presentazione, sono numerose le idee di imprese innovative pervenute. La competition, promossa da ShipLab, prima nel suo genere ad essere organizzata nel territorio locale, si inserisce in un contesto storico-economico che oggi ha urgente ed assoluta necessità di riscoprire nuove attitudini. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori al fine di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti che riguardano la tecnologia, la smart city, il turismo sociale, l'agroalimentare e l'arte. Ci è piaciuto il fatto che Gela si è mossa, Gela ha trovato uno spirito imprenditoriale, ma ha idee anche da Catania, Tormina, Siracusa, Grigento, insomma tutta la Sicilia ha avuto un buon riscontro questo contesto. Siamo molto contenti di questo, 23 idee di cui una dozzina sono state già preselezionate, ne presenteremo una decina, su tutti i campi che Next2Pitch ha proposto, quindi l'agroalimentare, turismo, sociale, tecnologia, tutte le idee avranno almeno una start-up che presenterà il proprio pitch. L'obiettivo finale è quello appunto di creare una partnership tra le imprese presente che hanno aderito in gran numero e faranno parte di una rete per l'innovazione, appunto una partnership tra queste imprese e le start-up, partnership che può essere economica, di scambio di know-how, semplice anche di elaborazione di prototipi, di prodotti, quindi si può creare un percorso per sviluppare nuove imprese grazie alle imprese già stabilite nel territorio.